Il tema che andiamo ad affrontare questa mattina è la questione dell'etichetta ambientale per l'artigianato tecnologico, il scenario di sostenibilità ambientale e lo andiamo affrontando diversi aspetti, diverse questioni, metto di qua che è la cosa migliore, partendo da un principio che secondo me è fondamentale, quella che è la distinzione di artigiano, perché ormai si parla di artigianato tecnologico, si parla di evoluzione, si parla di mercati e in molti casi non si sa più dove finisce la microimpresa, dove comincia l'artigianato e siccome in questo momento di crisi c'è molto questo ritorno all'artigianato, molto questo ritorno alla valorizzazione dei prodotti artigianali, l'artigianato così come definito a Treccani è chi esercita un'attività anche artistica per la produzione o anche riparazione di beni tramite il lavoro manuale proprio e di un numero limitato di lavoranti senza lavorazione in serie, svolta generalmente in una bottega, artigianato impagliatore, artigianato restauratore, si è messo in proprio come artigiano ed altro. Detto ciò, per una parentesi, dato che a me piacerebbe fare interazione, se avete domande, commenti, insomma intervenite liberamente che almeno creiamo un dialogo attivo. Detto ciò, partirei innanzitutto a presentarvi quelli che sono i trend della sostenibilità, in che senso? Nel senso che c'è chi dice che le cose stanno cambiando e in realtà dal mio punto di vista le cose sono già cambiate e si vede e ve lo dimostrerò. C'è chi dice che la sostenibilità è una moda, in realtà non è una moda perché vi dimostrerò, vi presenterò dei case history che ormai ci sono norme a livello internazionale e che regolamentano determinati mercati, tutta una serie di mercati, anche la produzione di determinati prodotti e c'è chi dice che la sostenibilità comunque è un'opportunità solo per vendere più prodotti. Questa cosa non è assolutamente, non è sempre vero, c'è chi la sfrutta assolutamente in questo caso, però ci sono tutta una serie di situazioni in cui la sostenibilità sta entrando in maniera radicale proprio a caratterizzare il prodotto e quindi adettare a specifiche regole per cui i materiali, i processi produttivi devono rispettare nel dettaglio tutta una serie di aspetti. Quindi, partiamo da, un po' dall'inizio, perché voglio dare proprio un quadro generale. Fino a ieri direi, neanche fino ad oggi, avevamo l'impresa, il mercato e il consumatore, quindi sostanzialmente tre soggetti. L'impresa realizzava il suo prodotto, lo metteva sul mercato e sostanzialmente c'era il consumatore che ancora oggi acquista questi prodotti. Quindi, un'interazione in un certo senso molto unidirezionale, per cui siamo arrivati a una sovrapproduzione di beni, come abbiamo visto negli ultimi anni, e il consumatore, in alcuni casi, anche molto passivamente, accettava questi prodotti, naturalmente sulla base di quelli che erano i propri interessi, sulla base di quello che è il requisito dei costi, sulla base di quelli che sono anche la questione del mi piace, non mi piace, mi serve, non mi serve, faceva giustamente, facciamo giustamente le nostre scelte. Le cose sono cambiate, le cose sono particolarmente cambiate e questo cambiamento io ve lo presento in termini, diciamo, di sostenibilità. In che senso? Nel senso che partiamo da un aspetto globale, un aspetto globale che è quello dell'impronta ecologica. Avrete sentito più volte parlare di impronta ecologica. Cosa si evince da questo grafico? Si evince che le risorse del nostro pianeta sono limitate, nel senso che il pianeta è questo, le risorse che ci sono, sono quelle che ci sono. E questo studio praticamente è andato a monitorare, va a monitorare ogni anno, quello che è la biocapacità del nostro sistema di rigenerare le risorse che noi consumiamo. Quindi quanto il nostro pianeta è in grado di rimettere, di rigenerare tutto ciò che noi andiamo a consumare e cosa si vede? Si vede che abbiamo raggiunto nel 1970 il 100% delle risorse rigenerate, quindi siamo andati a fine anno, nel 1970, dove quello che abbiamo consumato il nostro pianeta era in grado di rigenerarlo. Dal 1970 in poi siamo andati sostanzialmente in sovra-produzione, in che senso? Siamo andati oltre, quindi questo overshot day. Cosa vuol dire? Che abbiamo iniziato a consumare di più di quanto il nostro pianeta è in grado di rigenerare. Quindi anno dopo anno, anno dopo anno, siamo arrivati fino al 2014, dato odierna, dove il 18-19 agosto, non ricordo bene, abbiamo raggiunto l'overshot day. E cioè esattamente questa data, siamo arrivati al limite il 18-19 agosto e da qui in poi stiamo andando in overshot, cioè stiamo andando a consumare di più. E si stima che entro la fine dell'anno arriveremo a consumare il 156%, cosa vuol dire? Che stiamo consumando un pianeta e mezzo. Ora, questa cosa capite che è abbastanza problematica, è abbastanza problematica in quanto stiamo già consumando quanto ci è stato messo a disposizione per il 2015. Ma questa cosa è già iniziata nel 970, 75, 80, vedete che è in forte crescita. Quindi se considerate che è in continuamento il numero della popolazione mondiale, sono in continuamento i consumi, stiamo consumando sempre più risorse, è necessario in qualche modo iniziare a tirare il freno e abbassare, diciamo, questo limite e abbassare, ridurre gradualmente fino a tornare a questo 100%. La cosa non è semplice, la cosa non è semplice e bisogna intervenire da una parte politicamente, ma soprattutto industrialmente con una serie di azioni. Quindi è un problema da risolvere, così come è un problema da risolvere il tema delle emissioni di energia carbonica, che se ne parla molto negli ultimi anni, se ne sta parlando moltissimo. Avrete sentito due o tre settimane fa che finalmente Stati Uniti e Cina hanno trovato un loro accordo commerciale per ridurre queste emissioni e quello che vedete qua sostanzialmente è la mappa mondiale delle emissioni di CO2. Quindi vedete che queste sono le emissioni annue degli Stati Uniti, queste sono le emissioni annue della Cina, qui in mezzo ci stiamo anche noi come Europa e quindi c'è la necessità comunque di intervenire. Come Europa abbiamo un piano europeo, che poi è il famoso Kyoto, di cui in questi giorni si stanno decidendo quelle che sono le prossime strategie. Tutti i governi si trovano a Lima per decidere quelle che sono le azioni che poi dovrebbero essere sottoscritte l'anno prossimo a Parigi nel Kyoto 3, quindi per ridurre queste emissioni. La particolarità qual è? Che Stati Uniti e Cina si sono accordati tra di loro per dire riduciamo queste emissioni. Riduciamo queste emissioni, dannosi il 25-30% mi pare entro il 2025. Vediamo se poi ratificheranno l'anno prossimo questo tipo di accordo. Anche qui l'obiettivo qual è? È di cercare di ridurre il più possibile quelle che sono le emissioni. Quindi abbiamo due situazioni. Il problema ambientale c'è, è un problema macro, se ne parlava prima di micro macro. È un problema macro perché non possiamo fisicamente toccarlo con mano, però lavorando noi nel micro, l'insieme delle azioni del micro naturalmente portano dei miglioramenti al macro. Quello che è stato lo scenario, quelle che sono state le problematiche presentate ormai evidenti da tutti e quindi anche dai vari governi, ha portato negli anni, anche un po' a seguito della crisi, a trasformare il consumatore. Cioè noi siamo cambiati. Siamo cambiati nel modo di fare, nel modo di pensare, nel modo di acquistare. Siamo cambiati perché direttamente o indirettamente ci siamo resi conto che le cose stanno cambiando. E quindi quelle che vi andrò a presentare sono tutta una serie di risultati, di indagini svolte a livello internazionale, quindi indagini di un certo livello, non fatte su un paese, fatte su molti paesi, anche su 60 paesi, coinvolgendo imprese e consumatori, perché il consumatore cosa pensa? Il consumatore di queste tematiche pensa che il 39% ritiene che l'impresa non fornisce tutte le informazioni riguardo al potenziale impatto della salute dei loro prodotti, il 42% ritiene che le imprese non forniscono sufficiente trasparenza riguardo alla filiera di produzione, il 71% ritiene che le imprese non hanno preso adeguate misure per assicurare un trattamento etico, equo ai lavoratori, l'83% ritiene che sia importante conoscere il paese di origine dei prodotti che si acquistano. Quindi cosa succede? Succede che il consumatore, che prima noi eravamo un po' passivi nell'acquisto di tutta una serie di prodotti, adesso iniziamo a essere un po' più attivi, essere attivi e quello che esce da qui è che il consumatore inizia a dire bene, ma le imprese cosa stanno facendo? Ma questi prodotti da dove arrivano? Questi prodotti chi li fa? Questi prodotti rispettano le regole? Sono indicazioni che se andiamo a vedere con l'aumento della percentuale, cioè l'83% ritiene che sia importante conoscere il paese di origine dei prodotti che si acquistano, è un tema che si collega molto a quanto viene dibattuto oggi a Bruxelles, in particolare sulla direttiva del Made in, in particolare l'articolo 7, dove l'Italia è favorevole nell'introdurre un sistema perché ci sia effettivamente un Made in Italy, dall'altra parte ci sono altri paesi nordici che sono contro il riconoscimento del Made in, ma molto probabilmente per interessi personali e economici, non vogliono che ci sia ad esempio un Made in Germany, però questo è quello che vuole il consumatore, quindi il consumatore vuole conoscere la storia di questi prodotti. Inoltre i consumatori pensano che le aziende abbiano la stessa responsabilità dei governi nel migliorare la loro qualità di vita. L'85% pensa globalmente che le aziende hanno la responsabilità sulla loro qualità della vita, l'86% pensa che i governi hanno la responsabilità per migliorare la loro qualità della vita. La cosa incredibile, ma non tanto incredibile, è che si associa il governo ad un'impresa. Quindi quanto è responsabile un governo, tanto è responsabile un'impresa. Se poi andiamo a vedere, sempre da questa indagine, la suddivisione per continenti, vediamo che ci sono delle leggere differenze, per cui in Europa, in Asia, i consumatori pensano che siano più responsabili le aziende e dei governi, mentre invece in Nord America, in America Latina, quindi tutte le Americhe, è l'inverso. Ora, c'è una piccola differenza, però questo 85-86 è un messaggio importante. Quindi le imprese sono chiamate in causa, le imprese non si possono tagliare fuori, perché il consumatore sta andando in questa direzione. L'importanza per il consumatore di tracciare la provenienza di materie prime e componenti di diversi tipi di prodotto. Quindi, cosa succede? Che abbiamo visto nel famoso 84%, mi pare, dalla prima slide, quanto è importante tracciare la provenienza delle materie prime per diversi comparti. È logico che l'83% ha detto gli alimenti freschi, cioè è normalissimo quello che mangiamo, e quindi sapere la provenienza in molti casi è utile. Al secondo posto, con mia grande sorpresa, lo devo dire, c'è i prodotti per l'edilizia, quindi tutti i materiali edili, tutti quelli che sono i materiali che entrano anche nel settore domestico. Al terzo posto, quel 56%, l'high tech, l'elettronica di consumo, che io pensavo fosse più importante di quelli che sono i materiali edili, in realtà sono anche molto vicini. 45% elettrodomestici intelligenti. Quello che colpisce, e deve far ragionare, ma poi ci vedremo nella seconda parte della presentazione, è che complessivamente, sulla necessità di tracciare la provenienza, complessivamente, nel 2015, era il 50% dei consumatori che diceva, sì, per me è importante tracciare l'origine di materie prime. Nel 2013, quindi due anni dopo, è passato dal 54% al 61%. Se ipotizziamo che ci sia una crescita costante rispetto a questa percentuale, dobbiamo immaginare che nel giro di 6-7 anni al massimo, il 100% dei consumatori ritiene che sia importante arrivare a tracciare la provenienza di materie prime e componenti di diversi tipi di prodotto. Quindi, queste sono indagini, per quanto, indagini, diciamo, svolte da enti e da organizzazioni internazionali, quindi con un certo valore, quindi per quanto possa essere in parte, tra virgolette, falsato il dato, però l'orientamento è questo. Quindi, è un'opportunità o non è un'opportunità? Il dato di fatto è che questa tracciabilità e la provenienza del prodotto è un requisito fondamentale e che questa crescita è una crescita costante. Ci sono domande, considerazioni? Abbiamo visto il consumatore e vediamo le imprese, perché al pari del governo abbiamo visto le imprese devono essere responsabili. Ora, noi italiani abbiamo sempre una posizione molto disfattista, io invece sono molto per il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che per quello vuoto, anche perché, in quanto italiano, che a me piace il vino, conta anche la qualità del vino del bicchiere mezzo pieno, quindi meglio tre dita di un vino eccezionale che tre dita di un vino, diciamo, abbastanza scadente, quindi la qualità conta e quindi bisogna partire da lì. Perché dico questo? Perché quando si parla di imprese e strategie ambientali in Italia non va bene niente, non è così, non è vero. Ora, ne parlavo prima riprendendo una frase che, una volta ha detto Squinzi, in un convegno, non so se è sua come frase o se è stata ripresa, l'Italia è povera di materie prime, ma è ricca di materia grigia. Ed è verissimo. Questa materia grigia va valorizzata. Quindi, le imprese, non è vero che non fanno nulla, le imprese si stanno prodigando nello sviluppo di strategie, magari lentamente, c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento, c'è chi è più bravo, c'è chi è meno bravo, però si sta andando nella giusta direzione, anche perché il mercato sta dettando queste regole. Ora, la crisi economica, in un certo senso, ha rallentato queste strategie, però la direzione è questa. Queste sono le azioni ambientali perseguiti da 1.700 imprese di 133 paesi. Ora, trovate tutta una serie di indicazioni, tutta una serie di strategie, sia ambientali, sia sociali, sia legate al lavoro, dove, ad esempio, di queste 1.700 imprese, di 113 paesi, il 50% ha dei codici di condotta volontari. La valutazione dell'impatto ambientale l'ha fatta al 51%, il risk assessment il 50%, il water footprint il 32%, la life cycle assessment and costing il 31%, strategie di eco-design il 21%, consumo responsabile risorse il 65%, insomma, seppur a livello mondiale, ci si sta muovendo, ci si sta muovendo e si sta andando nella direzione in cui non solo il prodotto deve essere responsabile, ma anche l'impresa. Perché abbiamo visto che l'impresa è responsabile complessivamente, ma deve dimostrare anche l'eticità e la sostenibilità del suo operato al consumatore. Di queste 1.700 imprese provenienti da 113 paesi, hanno misurato anche i miglioramenti ottenuti dal 2009 al 2012, nel senso, è vero, hanno dichiarato, ma progressivamente cosa sta succedendo? Cioè, dicono che fanno, che raggiungono tutti quei risultati, che perseguono tutta una serie di obiettivi, e questi obiettivi sono, ad esempio, gli obiettivi di performance e di introduzione, gli obiettivi di performance, indicazioni sempre a carattere ambientale e sociale, nel 2009 erano il 56% a farlo, nel 2012 il 68%, più 12%, quindi c'è una crescita. Io su questi grafici non ho mai visto una decrescita. Sistemi di gestione ambientale dal 44% al 64% più 20%, realizzazioni di report ambientali, 29%, 44%, più 15%. Quindi, il fatto che si sta andando in questa direzione, è che la questione della sostenibilità ambientale, ma poi vedremo anche sociale, è una strada obbligatoria, non è una moda, non è un trend, e non è una strategia di vendita, è dimostrato da tutta una serie di dati. Poi è vero che c'è modo e modo per farlo. Io posso dire che faccio una cosa, in realtà non la faccio nel migliore dei modi, la faccio borderline, però intanto la faccio, ma questa è la direzione. Ora, prendiamo un settore che è molto sensibile, abbiamo visto dopo quello alimentare, è nell'attenzione, è nell'occhio del ciclone, per quanto riguarda la provenienza e l'origine della tracciabilità dei materiali, che è quello dell'edilizia sostenibile. Questa è un'indagine svolta dall'Associazione Americana degli Architetti, un'indagine svolta a livello mondiale, dove il 42% degli architetti afferma di avere clienti che richiedono elementi di edilizia sostenibile nella maggior parte dei loro progetti. Quindi la domanda c'è. Il 47% dei loro clienti implementano poi effettivamente gli elementi di edilizia sostenibile nei progetti, quindi intervengono effettivamente. La vera domanda è perché lo fanno? Le ragioni per cui gli architetti realizzano costruzioni sostenibili varia da paese a paese e qui iniziamo a vedere cosa? Che ad esempio in Gran Bretagna il 75% lo fa perché ci sono requisiti normativi. Quindi sei obbligato a farlo, non hai un'opzione, lo devi fare e basta. Il mercato è quello, devi sottostare determinati regolamenti, quindi lo devi fare per forza. La vera domanda è se il 75% lo fa, il restante 25% non lo fa oppure lo fa per altri motivi? Che non lo fa, dubito, in quanti ci sono i requisiti normativi. In Italia il 70% lo fa per l'aumento dei costi energetici e questo ci sta, nel senso che molti interventi adesso sono orientati all'efficientamento dell'edificio, a mettere i doppi vetri, a fare interventi di ristrutturazione appunto degli edifici per permettere una minore, diciamo, dispersione energetica e quindi dei consumi. In Giappone il 64% requisiti normativi, negli Stati Uniti richieste dai clienti. Ora, sapete che gli Stati Uniti, insomma, negli Stati Uniti è partito un po' il sistema LEED, dagli Stati Uniti partono delle iniziative in alcuni casi valide, in altri casi secondo me molto discutibile, sono molto bravi a costruire dei meccanismi che poi in Italia noi, in Europa, noi prendiamo come sistemi già collaudati negli Stati Uniti che però se poi si va in molti casi a verificare nel dettaglio hanno tutta una serie di pecche. In che senso? Nel senso che, e qui lo dico liberamente anche se siamo in streaming, io credo che in Europa siamo molto più attenti a creare delle norme che effettivamente permettano di raggiungere l'efficientamento in generale nell'applicazione della stessa norma e questo determina dei tempi, comporta dei tempi un po' più lunghi, mentre invece dall'altra parte del gruppo negli Stati Uniti sono più veloci a introdurre delle norme che poi dicono intanto partiamo, le introduciamo, saturiamo il mercato poi vediamo come personalizzarle. Sono due strategie completamente differenti. Il problema qual è? Che mentre noi siamo qua a fare delle norme per guardare il pelo se c'è va tolto e ripulito non si può andare perché manca quel pelo dall'altra parte ci troviamo in qualche modo coinvolti in norme che dicono l'hanno fatto loro hanno funzionato quindi se l'hanno fatto loro prendiamola portiamocela qua introduciamola. Su questo sono abbastanza rigido quindi sono abbastanza rigido e credo che qualitativamente quello che poi noi facciamo è sempre più dimostrato a un livello molto alto. Non vuole essere una critica ma vuole essere una considerazione. Ora cosa succede? Succede che vi ho dimostrato che il consumatore è cambiato il consumatore sta cambiando è cambiato e sta cambiando ancora perché perché prima il consumatore guardava i prezzi bassi li guarda ancora ma li guarda con un valore più completo rispetto al prodotto non c'è più solo il bello non bello quanto costo quanto risparmio è vero siamo in un periodo di crisi è più facile andare a comprare qualcosa che costa poco e che ci possiamo permettere però si guarda di più al valore complessivo del prodotto prima il consumatore aspettava le soluzioni adesso stiamo andando in un mercato dove il consumatore crea le proprie soluzioni cosa vuol dire? Che il consumatore adesso ha imparato a interagire ha imparato a creare dei propri bisogni a creare il proprio prodotto per rispondere in modo personalizzato ai propri bisogni ora su qua ci sarebbe da aprire un capitolo intero partendo dai social network arrivando alla stampante 3D è una cosa che verrà affrontata in un'altra occasione però è vero cioè il consumatore oggi si crea effettivamente delle proprie soluzioni e personalizzazioni e questa cosa va tenuta in particolare considerazione nello sviluppo dei nuovi prodotti prima il consumatore chiedeva qual è l'interesse per me quindi l'egoismo adesso il consumatore inizia a ragionare in termini globali qual è l'interesse per noi nel senso della ricaluta sul prodotto in termini di sistema prima il consumatore riceveva passivamente i messaggi dei brand adesso inizia ad attivarsi per creare contenuti prodotti ed esperienze e i social network sono un caso ad esempio molto significativo quindi cosa abbiamo dimostrato in questa prima parte abbiamo dimostrato che ci sono scenari di mercato questi scenari di mercato sono chiari stanno portando a tutta una serie di trasformazioni ci sono già state le trasformazioni e stanno arrivando altre trasformazioni che se si vuole competere adesso sul mercato è necessario tenere in considerazione questi aspetti tenere in considerazione cosa vuol dire prendere le imprese soprattutto in un certo senso quelle artigiane fagli capire che come si vendeva vent'anni fa non si può più vendere oggi fagli capire che bisogna creare ancora più valore sul prodotto valore che in molti casi loro già hanno ma non sanno vendere hanno molto valore intrinseco ma non lo sanno vendere aiutarli a fare questo valore ma soprattutto aiutarli a promuovere in maniera innovativa quello che è il nuovo prodotto in che senso nel senso che questo è lo scenario di mercato questo è una slide che ho fatto inizialmente nel intorno al 2000 1999 2000 quindi parliamo di 14 anni fa che mi porta dietro storicamente perché perché sostanzialmente cosa dimostra dimostra che quello che è stata l'evoluzione in grigio vediamo l'evoluzione tecnologica quindi l'evoluzione industriale 1970 la tecnologia è sempre andata più sparata è cresciuta è cresciuta è cresciuta la vediamo negli ultimi anni è cresciuta ancora in maniera più verticale in questo caso la linea retta proprio trasmette la direzione in cui sta andando in maniera decisa la tecnologia e poi cosa succede? succede che nel 1866 qualcuno decide di tirar fuori la definizione di ecologia quindi il tema ambientale inizia a comparire nel 1876 man mano che passano gli anni inizia a prendere importanza perché non perché la gente inizia ad essere responsabile ma perché succedono degli incidenti le tecnologie causano degli incidenti citiamone due Seveso 76 Chernobyl ok da lì i governi iniziano a dire no è importante introdurre dei regolamenti perché dobbiamo evitare tutti questi incidenti quindi introduzione delle normative quindi la tematica ambientale man mano da direttive globali normative globali man mano si vanno a focalizzare ad accentrare sul processo produttivo sul territorio fino ad arrivare al prodotto e fino ad arrivare ad oggi ai materiali quindi per chi di voi conosce la RIC sostanzialmente la regolamentazione completa di tutti quelli che sono le sostanze che possono essere o non possono essere utilizzate in vari settori ad esempio i prodotti elettrici elettronici sia con la RIC che con la ROS inizia ad esserci tutta la limitazione di questi prodotti di una serie di sostanze quindi la tematica ambientale inizia ad avvicinarsi alla tecnologia cosa vuol dire che se la tecnologia andava a mille la tematica ambientale grazie all'introduzione di norme e regolamenti inizia a dirgli attenzione signori che voi potete fare quello che fate però dovete iniziare a rispettare questo 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 quest'altro esempio direttiva imballaggi direttiva auto insomma ce ne sono diverse a un certo punto naturalmente ambientale con protocollo di chioto introduzione co-label il tema del GPP tutti questi sono aspetti che per chi di voi ha partecipato agli incontri passati penso Tiziana che sia stato già affrontato e che quindi non lo vado neanche a affrontare tema della life cycle assessment valutazione del cicloidità del prodotto impatto ambientale ok comunque vari strumenti a un certo punto nel 1982 lì viene marcato il 1982 in quanto iniziano a anno in cui l'Italia vince i mondiali non è questo l'aspetto rilevante iniziano ad esserci a far scandalo i primi diciamo incidenti legati a lo sfruttamento in un certo senso da una parte del lavoro in nero però poi è successo più avanti e il consumatore a seguito di questi incidenti inizia ad interagire di più col prodotto quindi il ruolo del consumatore inizia ad essere più attivo inizia ad essere più attivo e il consumatore inizia ad entrare più esigente più esigente verso il prodotto e verso il mercato a seguito di questo nascono anche tutta una serie di aspetti ad esempio legati al biologico quindi prodotti particolari biologici lasciamo stare a quello che è vero che non è vero nasce tutti i marchi bio nascono insomma tutta una serie di strumenti che permettono al consumatore di cercare di avere dico cercare perché non tutti sono così attendibili di dare delle garanzie al consumatore su quello che deve acquistare quindi l'introduzione di questi marchi questi regolamenti e marchi che dovrebbero semplificare la vita al consumatore sostanzialmente cosa cosa dicono attenzione consumatore che fino ad oggi hai comprato l'acqua io ti do l'acqua col bollino perché ti garantisco che effettivamente quell'acqua è sostenibile facciamo un esempio che quell'acqua è pulita ma la vera domanda è perché io ho bisogno di un bollino per sapere che quell'acqua è pulita in teoria quell'acqua dovrebbe essere pulita quindi si instaura una sorta di tra virgolette dubbio nel consumatore sul fatto che deve avere delle garanzie quindi ti devo dare delle garanzie queste garanzie sono affidate a un bollino quindi tutto il resto è falso se non c'è il bollino vuol dire che quello che non è il bollino è falso il problema è che questo è un meccanismo per cui sono nati tantissimi bollini tantissimi label fino ad arrivare ormai ad una saturazione incredibile che poi vedremo quindi il consumatore inizia a essere più attivo inizia a essere più attivo e si arriva nel 2004-2005 ricorderete il problema se non sbaglio Adidas problema Disney problema di una serie di aziende scandali di prodotti realizzati in Cina con sfruttamento lavoro minorile e senza i diritti dei lavoratori cosa che in molti casi succedono ancora ad oggi questi scandali pongono l'attenzione agli aspetti sociali quindi la sostenibilità sociale inizia ad avere un certo peso ed è giusto che sia così nel senso che uno degli aspetti di competitività del nostro paese è legato anche al rispetto delle regole dei diritti del lavoro in altri paesi la competitività rispetto all'Europa rispetto al nostro paese è proprio creata sul fatto che non hanno regole che ci sono degli sfruttamenti e quindi gli permettono sostanzialmente di avere prodotti a un costo più basso quindi gli aspetti sociali iniziano a entrare in gioco iniziano a entrare in gioco il consumatore abbiamo visto delle varie indagini inizia a dire bene devo comprare questa maglietta chi l'ha fatta come è stato fatta da chi è stata fatta perché si sente responsabile quindi un discorso di responsabilità verso il consumatore io consumatore ti voglio responsabilizzare se non che negli ultimi anni intorno al 2009 2010 compare anche un po' a seguito della crisi un altro aspetto che è quello della territorialità cosa vuol dire vuol dire che si iniziano a valorizzare le risorse ma non è che si iniziano a valorizzare le risorse così per caso si iniziano a valorizzare le risorse del territorio un po' perché perché la territorialità inizia a diventare un aspetto che sostanzialmente cosa cosa va a includere va a includere il fatto del minore impatto ambientale quindi un esempio su tutti il chilometro zero la territorialità va a includere l'aspetto sociale quindi il controllo diciamo di chi produce questo prodotto e la ricaduta sulla comunità di un determinato prodotto e quindi la territorialità va a mecciare positivamente con diversi aspetti diversi aspetti proprio legati a aspetto ambientale e aspetto sociale quindi ci troviamo ad oggi che mentre la legislazione ambientale è collegata ormai all'evoluzione tecnologica e da qua il 2020 saranno ormai a braccetto legate alle scelte del consumatore e gli aspetti sociali la territorialità è questo nuovo indicatore che sta sempre più crescendo quindi cosa succede? Succede che da qua ma anche se in realtà non dico da oggi ma dico da ieri nei prossimi anni quello che ci dobbiamo aspettare è che i nuovi prodotti che siano industriali o che siano artigianali poi vedremo nello specifico l'artigianale che vantaggi ha devono includere sia l'evoluzione tecnologica sia la scelta ambientale sia gli aspetti del consumatore sia gli aspetti sociali quindi questi elementi devono entrare nel prodotto e si devono identificare nel consumatore il consumatore ha bisogno di queste informazioni il consumatore deve essere in grado di poter scegliere deve essere responsabilizzato però per far questo qualcuno glielo deve dire ci deve essere chi verifica da una parte e dice effettivamente è così dall'altra parte il consumatore deve essere in grado di interagire con questi prodotti deve essere in grado di interagire e di conoscerli non è un progetto un processo semplicissimo perché entrano in gioco vari elementi ma soprattutto al consumatore si deve dialogare in modo in modo veloce in modo dinamico il consumatore in molti casi non riesce o non ha tempo di leggere tutto c'è un esempio che è un brutto esempio che però lo cito proprio per dare l'idea quando in me c'è stato tutto il problema della terra dei fuochi il danno quale è stato enorme oltre al danno del territorio di tutta la popolazione che messo sulla stampa tutto il problema la gente andava al supermercato la prima cosa che faceva guardava l'etichetta dell'insalata e della verdura diceva basta che non venga dalla campagna tutto il resto lo compro senza poi sapere che magari arrivava faccio un esempio cito una regione a casa o due regioni a casa magari arrivava dalla Lombardia che è la mia regione o dal Lazio magari arrivava dall'Emilia Romagna o magari arrivava dalla Puglia dove magari c'era lo stesso problema ma non si sapeva quindi il consumatore sollevato toccato da quel problema ingigantito iniziava a guardare l'etichetta allora in quel caso il consumatore reagisce se no il consumatore è abbastanza passivo quindi bisogna trovare anche il modo di dialogare con il consumatore attenzione il consumatore è attento in molti casi al prezzo in altri casi è vero che è attento come si diceva prima alla provenienza che è la storia del prodotto però bisogna comunicarglielo nel modo giusto cioè non si può dargli un prodotto con 150 pagine per raccontargli quella che è l'origine della tracciabilità del prodotto quindi questi sono gli elementi che entrano quindi il prodotto ha valenza ambientale e valenza sociale quindi la sostenibilità che include sia aspetti sociali sia aspetti ambientali e naturalmente anche l'aspetto economico che è l'altro requisito essenziale sarà proprio il requisito dei prossimi anni quindi tutti i prodotti dovranno includere sempre più questi aspetti e a dirlo non sono io a dirlo ve l'ho dimostrato è il mercato e ve lo dimostrerò anche in molti casi a dirlo è anche quello che stanno facendo molte aziende questo è un rapporto 2013 del Global Compact delle Nazioni Unite dove potete scaricarvelo da internet è molto molto interessante un'indagine su 1712 aziende da 113 paesi dove il riassunto è quello che le aziende si stanno muovendo dalle buone intenzioni alle azioni significative quindi frase molto politica ok però se entrate vedete che questa indagine fatta appunto lì non si vede molto bene il grafico a livello mondiale molte aziende si stanno la maggior parte delle aziende si stanno muovendo verso proprio il tema della sostenibilità quindi il tema della sostenibilità sarà l'arma vincente e sarà la regola fondamentale quindi cosa vuol dire che rispetto alla slide che vi ho mostrato all'inizio impresa mercato consumatore dove c'era un'unica direzione come vi dicevo il quadro è cambiato il quadro è cambiato ed è cambiato in questo modo perché c'è sempre la direzione impresa mercato consumatore ma il consumatore adesso rimanda indietro al mercato rimanda indietro all'impresa perché entrano in gioco i due elementi essenziali cioè la tematica ambientale e la tematica sociale quindi l'impresa adesso deve necessariamente andare a interagire con il mercato tenendo in forte considerazione il consumatore scusate tenendo in forte considerazione il consumatore e quindi lo sviluppo dei nuovi prodotti come dicevo prima che siano artigianali o che siano industriali si devono identificare identificare in uno scenario di questo tipo ora il quadro di riferimento del mercato è che effettivamente l'esigenza di comunicare in maniera efficace al consumatore il proprio effort in termini di sostenibilità è un'esigenza particolarmente sentita dalle aziende soprattutto qua è un discorso manufatturiero perché abbiamo i primi casi della manufattura ma è a livello globale negli ultimi anni diversi risultati diverse ricerche B2B evidenziano appunto che queste scelte sono proprio intrinseche in molte aziende con investimenti di un certo rilievo nei budget annuali e quindi entrano in gioco sia come dialogo nel consumatore ma anche e soprattutto verso la filiera di prodotto quindi l'impresa è vero che dialoga con il consumatore ma necessariamente ha bisogno di dialogare con tutta la filiera produttiva quindi con tutti gli stakeholder perché deve dare una garanzia su tutta la sua produzione nei mercati maturi in questo caso Stati Uniti e Unione Europea le multinazionali hanno avviato diverse iniziative legate a questo aspetto e quindi vogliono trasmettere in modo trasparente e diretto l'eticità dell'azienda e i rispetti del reddito del lavoro ma anche come fidelizzazione del consumatore perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo un prodotto e sappiamo che questo prodotto ha tutta una serie di garanzie ambientali etico e sociali noi andiamo sul sicuro nel senso che siamo più spinti ad acquistare quel prodotto o altri prodotti di quell'azienda perché? Perché sostanzialmente sappiamo l'eticità di questa azienda arrivando concretamente agli aspetti legislativi perché poi a dirlo non posso essere io ma deve essere la legislazione vi porto due esempi la prima il ricepimento della direttiva 2014 numero 24 2014 del Parlamento Europeo sugli appalti pubblici che mette ancora più in evidenza tra i criteri premianti dei bandi di gara pubblici gli aspetti ambientali e sociali di prodotti e servizi cosa vuol dire? Vuol dire che il ricepimento di questa direttiva che risale in Italia allo scorso aprile o maggio non mi ricordo cosa prevede? Prevede che nei bandi di gara pubblici non conta più solo l'aspetto economico contano tutti gli aspetti ambientali ma anche gli aspetti sociali quindi l'aspetto sociale è un indicatore premiante nel punteggio del bando di gara ora devono stabilire tutta una serie di aspetti quindi come conteggiare questi indicatori però è un grossissimo passo in avanti quindi i prossimi bandi le aziende gli artigiani tutti quelli che vogliono partecipare per avere maggior punteggio devono dimostrare che comunque loro hanno dei requisiti ambientali di prodotto lungo il tutto il ciclo di vita ma anche gli aspetti sociali e sull'aspetto ambientale l'aspetto interessante qual è che non è più solo legato a un marchio è legato anche alla fase d'uso del prodotto e alla dismissione vi faccio un esempio bando di gara per 10 condizionatori università del salento lecce fino ad oggi cosa succedeva miglior prezzo si porta a casa il problema qual è che in molti casi potrebbe vincere un'azienda che anziché produrre condizionatori in classe A produce condizionatori in classe C quindi cosa succede che guadagni in fase di acquisto del prodotto ma poi vai a perdere in fase di esercizio del stesso prodotto adesso il nuovo regolamento dice attenzione nel bando di gara dovete tenere in considerazione se il prezzo dovete tener conto l'impatto in fase di esercizio e dovete tener conto dell'impatto a fine vita del prodotto quindi intero ciclo di vita chi si premia si premia quelle aziende che hanno sempre investito sulla sostenibilità che quindi sono in grado di fornire dei requisiti a carattere ambientale sul proprio prodotto nell'ambito di tutto il ciclo di vita altro aspetto interessante qual è è l'aspetto sociale perché dicono attenzione non è che mi vuoi produrre quei prodotti sfruttando lavoro minorile il governo dovrà introdurre una serie di indicatori che permettono alle aziende di identificare gli aspetti sociali esempio rating di legalità che ha introdotto da poco il governo dove le aziende si possono iscrivere ricevere le famose stelline per essere diciamo inserite in una in una classifica di questo rating che semplifica tutta una serie di procedure la seconda norma che vi presento è una norma sempre comunitaria e fa riferimento alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario che le imprese devono fare all'interno del proprio bilancio quindi le aziende con un numero di dipendenti pari a 500 500 di più devono includere nel loro bilancio annuale informazioni ambientali sociali attinenti alla persona rispetto ai diritti umani alla lotta contro la corruzione attività passiva ed altro quindi cosa succede che le aziende con più di 500 dipendenti devono inserire nel proprio bilancio consolidato tutte queste informazioni quindi queste informazioni vanno raccolte queste informazioni vanno gestite e nel bilancio consolidato mi viene da ridere scrivere non si può dire il falso perché la storia ci racconta che di falsi ce ne sono stati però è un grosso passo in avanti quindi è un grosso elemento per iniziare a dire bene chi ci lavora in questa azienda vengono rispettati tutti i diritti banalmente poi lo vedremo negli esempi prendiamo questa università quanti di voi sanno per una questione di trasparenza di città quanti sono i dipendenti dell'università prendiamo il comune di Lecce ma come può essere quello di Milano quello di Roma la provincia la regione quanti di voi sanno quante persone lavorano al comune di Lecce quanti di voi sanno che tipo di contratto hanno quanti di voi sanno quanti uomini quante donne quanti di voi sanno l'età media e il livello di istruzione di queste persone non lo sappiamo non lo so neanche io però sarebbe bello saperlo cioè sarebbe bello sapere la storia dei prodotti che noi andiamo a acquistare la filiera di questi prodotti chi le ha realizzati ma chi c'è dietro cioè non mi interessa sapere che dietro la realizzazione della lampada fatta a Murano dall'artigiano che l'artigiano si chiama Mario non mi interessa quello che mi interessa è che è un artigiano che ha una tradizione di 60 anni di 50 anni che ha 10 dipendenti che questi dipendenti comunque hanno tutto in contratto regolare che quindi sono dipendenti giovani o sono dipendenti anziani cioè raccontare la storia e tutti questi aspetti quindi la direttiva va in questa direzione le direttive vanno in questa direzione veniamo all'aspetto artigianale ora quelle che vedete qua è una slide presa da internet naturalmente è battuta la notizia circa 6 mesi fa è famosa e gira queste sono le 10 aziende le 10 multinazionali più potenti in assoluto a livello mondiale nel senso quelle che hanno i maggiori brand e sono quasi tutte aziende americane ora guardando questo slide è difficile andare a vedere i vari brand che hanno le ricadute quello a cui penso io è ma quanti dipendenti ci sono qua dentro cioè quante migliaia di persone in questo momento si identificano lì dentro ci sono veramente centinaia di migliaia e la vera domanda è come facciamo a tracciare tutti gli aspetti sostenibili di queste aziende non è semplice è vero hanno un sacco di soldi riescono a muoversi diciamo in termini di comunicazione in maniera pesante che hanno i capitali però riuscire a tracciare la sostenibilità sociale di tutti i loro dipendenti non è semplice perché vi faccio vedere questa slide perché lo vedremo poi quando entriamo nell'aspetto sociale la differenza tra queste multinazionali e un artigiano è che l'artigiano le informazioni le raccoglie le gestisce legate al prodotto alla filiera e al sistema di produttivo nel giro di 5 minuti di 10 minuti di un'ora le stesse informazioni messe e richieste all'interno di questo sistema ci vogliono dei mesi quindi qual è il vantaggio del sistema artigianare secondo me da sfruttare che si può associare al prodotto tutta una serie di valori ambientali e sociali che possono dare delle garanzie di tracciabilità di filiera al consumatore delle garanzie relative agli aspetti sociali del sistema produttivo che le multinazionali non posso dire che non lo possono fare perché in molti casi già lo stanno facendo ma che così nello specifico possono avere delle difficoltà quindi il prodotto artigianale oltre che per la sua storia oltre perché valorizza il territorio oltre perché valorizza quelli che sono le tradizioni e le origine devono tirar dentro includere dei requisiti che diano garanzia al consumatore ma che diano competitività rispetto al tipico prodotto industriale e questo è uno degli aspetti che poi vedremo anche nel workshop e nell'esercitazione ora in tutto ciò c'è da stare attenti nel senso che è facile parlare di sostenibilità ambientale è facile parlare di sostenibilità sociale c'è da stare attenti a non comunicare il falso a non distorcere la comunicazione ora voi sapete che ogni volta che andate a comprare un'auto adesso c'è l'obbligo di dichiarare l'emissione di CO2 per chilometro all'inizio quando c'era l'introduzione della direttiva generalmente le auto medie emettevano 140 130 grammi di CO2 a chilometro l'introduzione della diciamo di questa normativa e quindi l'obbligo di dichiararla ha spinto le imprese sarebbe da aprire un capitolo sui giochi che sono stati fatti a Bruxelles vabbè comunque ad abbassare nel senso che è un requisito di competizione e quindi adesso siamo scesi in alcuni casi anche a 90 95 grammi automedia di grammi di CO2 a chilometro se non mi sbaglio ora quello che vedete qua è un esempio in cui io mi sento di dire tranquillamente pubblicamente che questa è la compagnia ferroviaria con le più basse emissioni di CO2 per passeggero nessuno potrebbe dire che non è vero non c'è un'altra compagnia ferroviaria migliore di questa ok? senso della comunicazione ambientale messaggio falso no è vero io sto dicendo la verità io vorrei qua il massimo esperto in emissione di CO2 nel calcolo ma questo è sicuramente la compagnia ferroviaria in questo caso questo treno con le più basse emissioni di CO2 per passeggero c'è un problema che mentre vengono rispettati in maniera eccellente i requisiti ambientali forse così no? così ci vedete? oh almeno si vede un po' meglio grazie professore mentre vengono rispettati in maniera eccellente i requisiti ambientali abbiamo un problema sui requisiti sociali quindi quando si parla di greenwashing o di social washing è proprio legato a questi aspetti nel senso che ci sono dei casi non voglio dire molti casi in cui la comunicazione ambientale viene un po' strumentalizzata e distorta quindi io vi ho portato questo esempio proprio per dire attenzione ci sono dei casi in cui c'è molta attenzione viene spostata l'attenzione agli aspetti ambientali e non si guarda agli aspetti sociali e questo adesso inizia ad essere un serio problema quindi le due tematiche nei prossimi anni saranno fondamentali devono andare di pari passo proprio per evitare tutto questo quindi questo è un esempio un po' più emblematico e quindi arriviamo un po' al dunque il dunque è quello di dire bene c'è un scenario Tiziana che dobbiamo fare la pausa? quando volete fare una pausa me lo dite se mai facciamo sto pezzettino poi andiamo a pausa abbiamo visto che c'è un scenario in cui il mercato è cambiato aspetti ambientali aspetti sociali imprese e artigianalità il consumatore ruolo fondamentale il consumatore più attento c'è bisogno di cosa? c'è bisogno di creare degli strumenti per valorizzare il prodotto c'è bisogno degli strumenti che permettano di dialogare con il consumatore esempio banale voi non mi avete mai visto appena entrati il giudizio avete dato di me qual è? è una persona parla parla milanese sarà del nord ci ha raccontato delle cose però tutti i giudizi molto affrettati nel senso non potete dare un vero e proprio giudizio man mano che parlo e vi racconto le cose il giudizio su di me potrebbe essere positivo o negativo questa è la cosa dettata è dettata da una serie di informazioni che io vi sto trasmettendo quindi qualcuno di voi potrebbe dire guarda sta dicendo cose interessanti qualcuno di voi potrebbe dire guarda sta dicendo un sacco di cavolate per non dire un altro man mano ricevete degli input che vi permettono di dare informazioni ora la stessa cosa deve essere fatta sul mercato verso il consumatore il consumatore beve ma beve come? quindi c'è bisogno continuamente di informare in modo serio il consumatore ma non c'è bisogno di tirargli i litri d'acqua c'è bisogno di dargli le giuste informazioni perché ci sia equilibrio tra l'informazione che il consumatore è in grado di bere e quello che poi continuerà a chiedervi quindi il senso delle etichette qual è? è quello di coinvolgere il consumatore ora questa è se voi digitate Ecolebol in Google immagini vi esce il mondo delle etichette non so quanti migliaia di etichette ci sono a livello mondiale c'era stata un'indagine un po' di anni fa di un'associazione canadese che aveva rilevato 1700 etichette sul mercato di cui l'80% diceva il falso e solo il 20% diceva il vero ora ci sono delle etichette più o meno famose delle etichette che per noi sono più facilmente riconoscibili delle etichette dicevamo prima che ci dovrebbero dare delle garanzie che non sempre danno delle etichette che ormai il consumatore non guarda più perché sono talmente piccole sulla confezione sono talmente tante che ci rimbalzano completamente quindi che senso ha fare una nuova etichetta cerchiamo di fare degli strumenti che possano comunicare in maniera interattiva e dinamica con chi? con il consumatore cosa vuol dire? vuol dire che oggi a livello mondiale questo è solamente un esempio c'è di tutto poi ogni paese ha le sue etichette ufficiali in Europa abbiamo l'ecolabel per alcune tipologie di prodotti in Europa c'è stata un po' la saturazione in altri paesi ce le sono di meno però bene o male oggi ogni paese ha la sua etichetta e naturalmente ci sono etichette che sono nate un sacco di anni fa etichette che sono appena nate e che quindi hanno bisogno di evolversi però la cosa fondamentale è che i nuovi strumenti che devono dialogare sul mercato che devono dialogare con il consumatore devono essere strumenti che possano permettere di far interagire fisicamente il consumatore con il prodotto possano in qualche modo anche permettere di essere comparativo rispetto ad altri prodotti etichette che possano diciamo così anche avere un livello di upgrading nel tempo e quindi c'è bisogno di strumenti che più o meno adesso qua non si vede molto però ve lo spiego più o meno dinamici coinvolgano in maniera immediata visiva il consumatore io ho preso solo due o tre esempi in questo caso questa è un'etichetta che sostanzialmente mette a confronto le caratteristiche di di bronzo argento e oro e attraverso dei simboli sostanzialmente la pericolosità il consumo d'acqua vabbè non si vede molto anche gli aspetti sociali a secondo che sia nero o sia verde più chiaro gli dice al consumatore se è nero vuol dire che è bad se diciamo il comparto è anche aspetto energetico è verde chiaro vuol dire che è eccezionale per quell'aspetto quindi il senso qual è è quello di capire qual è migliore sostanzialmente il primo è che guardandoli tutti e tre ora per dire se è meglio l'oro l'argento o il bronzo io mi devo soffermare un attimo ragionare visivamente dico questo mi sembra più verde questo mi sembra più scuro questa è una sorta di via di mezzo ma è verde un po' di più perché cosa dell'acqua sicuramente dell'energia sicuramente anche su quanto riguarda gli aspetti sociali la tutela della natura insomma c'è da ragionarci ipodizzate di avere decine di prodotti da confrontare insomma è sicuramente uno strumento valido uno strumento valido che cerca in qualche modo di aiutare il consumatore poi questo è Simil Energy Label l'Energy Label è quello applicato all'elettrodomestico che ha avuto un grande successo sostanzialmente perché perché va a classi classe A classe B classe C classe D cioè sappiamo tutti contare o il numero o le lettere sappiamo l'alfabeto quindi se classe A è più efficiente se classe C e D è meno efficiente grazie a questa comunicazione ha avuto un grande successo tant'è che questa qua è un'etichetta applicata al sistema creata da un'azienda privata applicata a tutta una serie di veicoli aerei degli aerei che quindi mette in evidenza che cosa il rumore mette in evidenza le emissioni di CO2 il consumo del carburante le CO2 emesse anche la distanza qua purtroppo non si riesce a vedere bene anche la qualità della distanza del passeggero e il numero dei posti quindi informazione immediata classe A ormai sappiamo che la classe A è l'eccellenza e man mano con dei valori le totale delle emissioni di CO2 e il totale di queste sono il totale delle emissioni di CO2 per la partenza e l'atterraggio e l'atterraggio è questa l'emissione di CO2 per suddiviso per passeggero quindi varie etichette che comunque sono andate oltre semplice l'Ebola per cercare appunto di comunicare e di dialogare e di interagire poi arriviamo al mondo del bio ora queste sono alcune non sono neanche italiane mi fanno molto natale queste queste etichette in quanto diciamoci la verità le nostre sono molto più belle molto più dirette semplici non a caso abbiamo questa materia grigia in Italia non avremmo le materie prima appunto la materia grigia ne abbiamo queste sono etichette internazionali che veramente mi fanno molto natale e dietro nella grafica c'è un senso di di cercare di comunicare questa tradizione questa verde insomma questa cosa un po' country se vogliamo no cioè vieni a comprare da me che ti faccio fare un giro a cavallo cioè è un messaggio graficamente molto pesante cioè non so voi ma sì è è di impatto però non mi dà tutta questa garanzia c'è scritto bio 100% vuol dire che il messaggio è diretto è un prodotto bio al 100% non lo metto in discussione però tutta questa decorazione insomma poi la lascia al tempo che trova ora prima di arrivare ai requisiti ambientali sì che poi facciamo la pausa facciamo una prima conclusione io spero di essere stato chiaro su quello che è lo scenario di mercato spero di essere stato chiaro su quello che sta succedendo poi vi farò vedere nei requisiti ambientali anche tutta una serie di case history perché le cose l'ho ripetuto e lo ripeto ancora ma già ripetuto lo voglio ripetere le cose sono effettivamente cambiate quindi c'è la necessità di creare valore sul prodotto e in modo particolare il settore dell'artigianato l'artigiano i prodotti dell'artigianato hanno una serie di vantaggi in termini di creare questo valore che possono seriamente creare competitività al sistema industriale attenzione ci sono dei vantaggi e ci sono degli svantaggi gli svantaggi li conosciamo tutti che è la diffusione che è la commercializzazione che non è così semplice però ci sono dei vantaggi enormi che è la valorizzazione del territorio e la qualità e la storia del prodotto quindi questi aspetti vanno esattamente nella direzione che richiede il mercato che richiede la normativa e quindi potrebbe essere o sarà sicuramente ne sono convinte l'arma vincente per coinvolgere e portare a bordo il consumatore educandolo e dando gli prodotti io dico di qualità tra virgolette quindi se ci sono domande va benissimo se no io propongo di fare 10 minuti di pausa tagliando lo streaming in modo tale che poi ritorniamo e continuiamo domande tutto chiaro fantastico perfetto grazie mille ci vediamo tra poco ci siamo bene allora adesso affrontiamo due aspetti in questa oretta da una parte quelli che sono i requisiti ambientali dagli altri quelli che sono i requisiti sociali attenzione i requisiti ambientali possono essere tantissimi avete visto anche nei precedenti incontri ad esempio la life cycle assessment come strumento di valutazione dell'analisi della sicurità del prodotto però tornando in un discorso di comunicazione molti di questi aspetti devono essere diciamo comunicati al consumatore comunicati al mercato in qualche modo essere introdotti in azienda in modo che il processo produttivo e quindi di conseguenza la progettazione del prodotto non diventi un qualcosa di troppo complesso dall'altra parte che il prodotto comunque possa dare al mercato al consumatore delle garanzie a carattere ambientale e quindi è necessario in alcuni casi fare delle scelte ora io partirei con degli esempi esempi di anche casi internazionali a dimostrazione che comunque le multinazionali si stanno muovendo si stanno muovendo in varie direzioni si stanno muovendo nel cercare di utilizzare materiali a valenza ambientale in politiche ambientali e quindi di crearsi anche proprio una propria identità da questo punto di vista questo ad esempio è il nuovo concept store della Nike a Shanghai realizzato utilizzando materiali riciclati quindi un esempio che comunque la Nike fra l'altro su Matrix abbiamo appena pubblicato una news di una calzatura della Nike che ha utilizzato pelle di pesce riciclo della pelle di pesce come materiale così come altre aziende la calzatura anche l'Adidas la Puma insomma sono tutte molto impegnate nello sviluppo di politica ambientale hanno deciso di investire per cercare di fare questo concept store come un concept store utilizzando appunto questi materiali riciclati Patagonia che da anni insomma porta avanti politiche ambientali in maniera molto competitiva e molto seria sapete che molti la maggior parte dei prodotti molti prodotti realizzati a Patagonia sono fatti con poliestere riciclato quindi P&T riciclato questo è un esempio di un infradito una flip-flops e in particolare Patagonia ha lanciato un programma del riciclo delle proprie flip-flops quindi interessante come iniziativa nel senso che è in grado di riciclarle e quindi di riprodurre nuovamente il materiale per fare nuovi prodotti in particolare vi invito anche ad andare sul sito di Patagonia perché è un sito molto interessante che fa vedere per vari prodotti la tracciabilità del prodotto quindi fa vedere la provenienza dei materiali da dove arrivano e questo è un aspetto interessante che poi vedremo denim sempre relativamente a questione di comunicazione queste sono foto scattate da me in alcuni negozi naturalmente presenta in questo caso l'attenzione è rivolta al basso impatto di denim il futuro è quello che noi facciamo in un certo senso e quindi dice impatto basso impatto per quanto riguarda minore energia minore acqua e minore rifiuti e quindi denim si espone in che modo in che modo mettendo questa etichetta appunto sui jeans dicendo l'azienda è impegnata a ridurre energia acqua e rifiuti senza far polemica e un po' lavorando nel settore la vera domanda è quanto energia quanta meno acqua e quanti meno rifiuti nel senso che non sto dicendo che è un messaggio sbagliato è un messaggio molto utile molto diretto molto molto chiaro sarebbe bello se ci fosse un'evoluzione o se si potesse arrivare al consumatore dicendo abbiamo ridotto totta abbiamo ridotto totta abbiamo ridotto totta quindi altro esempio veniamo Benetton Benetton ha intrapreso tutta una campagna legata al tema dell'organico sapete che insomma adesso ci sono vari tessuti appunto organici quindi tutta la coltivazione viene fatta senza l'uso particolare di pesticidi e senza l'utilizzo anche di prodotti chimici e niente Benetton ci tiene lo mette in vetrina e appunto in questo caso cosa racconta che i prodotti una linea di loro prodotti una serie di loro prodotti appunto sono realizzati con cotone organico e in particolare per una serie di prodotti dei bambini ha realizzato questa etichetta che praticamente cosa dice vesti sicuro quindi il messaggio al consumatore ai genitori che acquistano i capi di abbigliamento per i propri figli è vesti sicuro vesti sicuro in che senso? Nel senso che qua praticamente dice prodotti certificati EcoSave dice che non c'è la presenza di determinate sostanze e quindi dà la garanzia della diciamo della naturalità del tessuto con cui è stato fatto il capo di abbigliamento e di conseguenza anche il capo di abbigliamento spiegando alcune informazioni e questo è un esempio di quello che sta succedendo ce ne sarebbero tantissimi Ora noi quando parliamo di ambiente quando parliamo di sostenibilità quando parliamo di prodotto a me non piace dirlo ecologico nel senso che io uso spesso il termine sostenibilità in che senso? Nel senso di dire che dobbiamo raggiungere quell'equilibrio che abbiamo visto all'inizio cioè in termini di risorse sostenibilità è quando riusciamo ad arrivare a un equilibrio sostenibile delle risorse e quindi nel consumatore c'è ancora questa modalità di utilizzare il termine ecologico che è giusto non è sbagliato il problema di sostenibilità scusate il termine sostenibilità però per me va a considerare sia la sostenibilità ambientale che la sostenibilità sociale per quanto riguarda la sostenibilità ambientale quindi quei requisiti che possono in qualche modo contribuire a raggiungere quegli obiettivi che abbiamo visto all'inizio alcuni degli aspetti cosa sono? che il prodotto sia naturale che il prodotto sia biodegradabile che il prodotto sia compostabile poi su questo ci torniamo parliamo in alcuni casi quando c'è biodegradabilità e compostabilità di queste nuove bioplastiche il prodotto è questo che noi stiamo costruendo ormai da anni il concetto è ipotizziamo di prendere i capi di abbigliamento che abbiamo addosso allora prendiamo ad esempio questa camicia ipotizziamo che tutti voi abbiate su questa camicia voi sapete quanto ci impiega a rigenerarsi il materiale utilizzato per questa camicia? prima cosa che dovete sapere è che materiale è vi dico che è cotone voi sapete quanto tempo ci impiega il cotone a rigenerarsi per realizzare ovviamente questa camicia? è un'informazione utile perché abbiamo dei prodotti tornando appunto alla slide della rigenerazione e la biocapacità che si rigenerano molto facilmente dei prodotti che si rigenerano ahimè con milioni di anni ora per me sapere che il cotone realizzato per questa camicia è un cotone che ci impiega un anno a rigenerarsi vorrebbe dire che questa camicia a me dovrebbe durare almeno un anno quindi se questa camicia mi dura un anno io fra un anno la butto la mando a riciclo scusate e compro un'altra camicia sono sicuro che la rigenerazione del cotone è fatto in tempo a permettere appunto il reimpiego e vado tranquillo qui entra in gioco due fattori il primo che il ragionamento che faccio io lo fate anche voi quindi la capacità mondiale di produrre il cotone dovrebbe soddisfare me ma dovrebbe soddisfare anche tutti gli altri quindi cosa vuol dire che è possibile che è vero che ci impiega un anno a rigenerare il cotone della mia camicia che però la quantità di cotone riprodotto a livello mondiale non può soddisfare solo me di soddisfare anche gli altri e quindi per soddisfare anche tutti gli altri ad esempio ci potrebbero volere due, tre o quattro anni e quindi cosa vuol dire che questa camicia per andare a compensazione io dovrei indossarla almeno quattro o cinque anni il tempo da permettere che ci sia tutta la rigenerazione del cotone e arrivare di nuovo a me al mio turno chiaro questo esempio in questo modo io sono sicuro che consumo tanto quanto il sistema è in grado di rigenerare ora noi su questo stiamo costruendo degli indicatori il senso degli indicatori qual è? è quello di permettere di associare a un prodotto proprio questo indice di rinnovabilità di rigenerazione qua abbiamo degli altri esempi ad esempio questo pannello isolante in lino è realizzato 100% in lino dove il tempo massimo di rinnovabilità è un anno stessa cosa ad esempio del cotone poi c'è cotone cotone c'è cotone sudamerica c'è cotone asiatico c'è cotone egiziano insomma ci sono vari tipi di cotone la stessa cosa vale per la canapa questo mattone realizzato in canapa indicatore massimo di rinnovabilità a quattro mesi il fatto che venga utilizzato all'interno di un edificio cosa vuol dire che se mi dura più di quattro mesi fortunatamente sia un edificio più di quattro mesi vuol dire che la rinnovabilità esiste e quindi che vado poi in compensazione il problema qual è prendiamo questo bicchiere realizzato in polistirene quindi realizzato petrolio anche se c'è una micro quantità di petrolio la durata di questo bicchiere è sostanzialmente la giornata di oggi perché stasera questo bicchiere viene preso e viene buttato la rigenerazione di questo bicchiere legato al petrolio è di milioni di anni quindi cosa vuol dire che io non riuscirò mai a compensare il riutilizzo di questo bicchiere o meno o meglio io potrei tentare di utilizzare questo bicchiere per tutta la mia vita portarmelo sempre in giro non usare più bicchiere di plastica ma usare solo questo in qualche modo riuscirei ad ammortizzarlo ma è logico che domani io mi ritroverò un nuovo bicchiere di plastica che utilizzerò cosa vuol dire che predico bene e razzolo male no è un discorso di sistema nel senso che è l'esempio del bicchiere ma come può essere l'esempio della bottiglia quindi vuol dire che non bisogna usare più la plastica non è questo tanto il concetto il concetto è che questo bicchiere può andare a riciclo con riciclo si fanno nuovi prodotti e si va in qualche modo in ammortamento è logico che per la plastica il riciclo è limitato quindi poi ci sarà un discorso di valorizzazione energetica però è tutta una questione a cascata arrivando però al succo milioni di anni su milioni di anni cosa vuol dire? vuol dire che quel 156% che abbiamo visto all'inizio se lo vogliamo abbassare dobbiamo fare degli interventi affinché le risorse si possano rigenerare quindi per quanto ci possono essere scorte di petrolio qui non voglio entrare in giochi di comunicazione politici c'è chi dice che ce n'è ancora sufficienza c'è chi dice che non ce n'è più però alla fine noi stiamo consumando delle risorse che non sono in grado di rinnovarsi quindi l'obiettivo di questi indicatori è proprio di permettere per tutti i prodotti di dire guarda i tempi di rigenerazione sono questi quindi il consumatore vai a comprare un prodotto attenzione questi sono i tempi di rigenerazione sei in grado di ammortizzare questi tempi è una scelta è una tua responsabilità questo spingerebbe politicamente a dire allora utilizziamo solo prodotti naturali in teoria sì in realtà non possiamo vivere solo i prodotti naturali ma quello che si dovrebbe fare è un ragionamento serio e cercare di impiegare prodotti naturali quindi prodotti rinnovabili o prodotti che possono essere riciclati all'infinito come ad esempio i materiali ferrosi ad esempio l'alluminio ad esempio il ferro materiali che possono essere riciclati all'infinito anche se molti di questi non vanno a riciclo ma finiscono in discarica per allungare il ciclo di vita e quindi si consumano meno risorse ed è un esperimento interessante un esperimento che abbiamo proposto a tutta una serie di aziende e che le aziende hanno dimostrato di essere interessate perché ci sono una serie di prodotti sul mercato e vi dico ad esempio gli sciampi i barattoli degli sciampi i barattoli dei detersivi molti di questi prodotti hanno una durata molto limitata e benché vengano mandati a riciclo però il riciclo garantisce un processo garantisce due processi ma non arriverò mai ad ammortizzare milioni di anni quindi quello che ognuno di noi dovrebbe fare è che cos'è? cercare in qualche modo di valorizzare queste risorse poi qui si entra in un campo delicato perché noi come matrec come osservatorio internazionale abbiamo fatto una scelta e cioè di inserire solamente materiali che o sono riciclati o sono da fonte rinnovabile vegetale o animale nel caso di animale solo se si tratta di scarto di lavorazione per il settore alimentare che abbiano una rigenerazione che non superi i cent'anni quei materiali naturali che hanno una rigenerazione che supera i cent'anni non li consideriamo nel nostro osservatorio questa è stata una scelta nostra ci assumiamo le nostre responsabilità ma va in linea col principio di sostenibilità che si diceva in realtà questi cent'anni dovrebbero essere in qualche modo abbassati in quanto ognuno di noi non campa cent'anni però vi piacerebbe campare cent'anni però è una scelta che vogliamo dare proprio come indicazione ora abbiamo visto alcuni dei requisiti ambientali veniamo ai requisiti sociali per i requisiti sociali io partirei un po' da da una storia che scusate ok che è questa allora tre anni fa mi sono trovato a collaborare in un progetto del ministero dell'ambiente col ministero dell'ambiente un progetto che prevedeva il coinvolgimento di aziende nazionali e aziende internazionali dove l'obiettivo era quello di fare la valutazione del carbon footprint conoscete il carbon footprint come metodologia strategia no life cycle assessment allora brevemente analisi del ciclo di vita misurare l'impatto del prodotto lungo tutto il ciclo di vita la carbon footprint cosa fa valuta l'impronta di carbonio di un prodotto lungo tutto il ciclo di vita quindi le emissioni di CO2 solo le emissioni di CO2 lungo tutto il ciclo di vita quindi un prodotto questo bicchiere produzione del petrolio trasformazione produzione del bicchiere imballaggio trasporto uso dismissione riciclo o discarica analisi di tutte le emissioni di CO2 attraverso dei software che contengono tutte queste informazioni in questo caso si misura il carbon footprint l'ho fatta semplificata cioè l'impronta di carbonio quanta CO2 emette questo prodotto che è legato al problema dei cambiamenti climatici che è legato al problema dell'emissione di CO2 mondiale protocollo di Kyoto ora l'obiettivo del progetto era misurare il carbon footprint di una serie di prodotti in questo caso accanto al carbon footprint abbiamo avviato ed è un aspetto che ho seguito io direttamente l'idea di realizzare un social footprint quindi qual è l'impronta sociale del prodotto il senso qual era? era quello di arrivare al consumatore quanto ci siamo detti questa mattina arrivare al consumatore raccontagli una storia sul prodotto raccontagli l'impatto in termini di CO2 ma anche l'impatto in termini sociale solo che qui partivamo un po' da zero ci dobbiamo inventare degli indicatori e quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo creato questo label dove per tutta la filiera del prodotto e quindi qua per una maglietta e per un paio di pantaloni in questo caso siamo in Brasile quindi vedete la tracciabilità del prodotto e cioè dalla materia prima quindi dal cotone la produzione del cotone la stazione del cotone la filatura la realizzazione del pantalone il punto vendita abbiamo fatto la verifica su tutta la filiera raccogliendo dei dati qua non si vede bene ma sostanzialmente quanti uomini e quante donne l'età media delle persone se l'azienda o comunque il prodotto era certificato se il prodotto veniva fatto lungo tutta la filiera utilizzando più che altro la procedura manuale o meccanica quindi 33% manuale 67% meccanico i progetti sociali svolte dall'azienda della filiera e all'interno di questi progetti sociali sostanzialmente quanti dipendenti partecipavano tra uomini e donne e il totale complessivo dei dipendenti che partecipavano ai progetti sociali i partner del progetto quindi se c'erano partner pubblici partner privati nell'organizzare diciamo nell'aderire nella realizzazione di questo progetto e infine per ogni azienda della filiera indicare che tipo di attività svolgeva quindi il senso qual'era? Era quello di dire caro consumatore ti comunico l'impatto in termini di CO2 l'impronta ambientale del prodotto ma dall'altra ti voglio un po' raccontare con la piantina dove arrivano i vari componenti i vari processi chi fa cosa ti voglio raccontare anche la storia delle persone che ci sono dietro sei un'azienda giovane sei un'azienda anziana la parte grafica non vi nascondo che ha un ruolo fondamentale nel senso che è importante comunicare graficamente questi aspetti e questo progetto ha avuto un grande successo ha avuto un grande successo da parte delle imprese ha avuto un grande successo da parte dei consumatori tant'è che poi è stato esteso a altri tipi di prodotti in questo caso lo vediamo per questa borsa fatta in pirarucù in pirarucù è un pesce del Sud America che viene allevato per la carne che poi viene venduta in scatola la pelle che era di scarto viene recuperata e in questo caso di questa borsa cosa vediamo la parte del carbon footprint quindi 0.039 tonnellate l'emissione di CO2 non si vede molto bene la suddivisione in percentuale dell'impatto lungo tutto il ciclo di vita quindi produzione trasformazione trasporto e dismissione il rapporto per far capire questo 0.39 tonnellate cosa vuol dire quindi da 0 ha le emissioni di un'automobile media che percorre mille chilometri quindi la borsa si posiziona qua altre informazioni descrittive e questa è la parte sociale parte sociale che praticamente racconta la filiera racconta il numero di persone coinvolte il numero di progetti e le attività sociali e ambientali svolte dall'azienda da qui abbiamo capito che c'era bisogno però di dare altre informazioni perché non erano sufficienti e abbiamo fatto un nuovo passo in avanti il nuovo passo in avanti che l'abbiamo fatto in modo particolare con le aziende italiane qual è stato? è stato quello di cercare di costruire un label che in qualche modo potesse ancora più interagire con il consumatore e quindi cosa abbiamo fatto? questo è un esempio generale abbiamo raccolto tutta una serie di nuovi indicatori in che senso? nel senso che qui vediamo il prodotto X che potrebbe essere il bicchiere come potrebbe essere questa camicia o qualsiasi altro prodotto e l'idea qual era? l'idea qual è stata? è stata quella di andare a trecciare le aziende della filiera compresa l'azienda produttrice in questo caso è la numero 4 ad esempio dove l'azienda produttrice scusate che è la numero 1 dove viene fatto una tracciabilità di tutta l'azienda per capire che cosa ok? l'azienda produce questa camicia vediamo chi sta sotto quindi per ogni azienda l'anno di costituzione perché è importante l'anno di costituzione? per sapere se è un'azienda giovane o un'azienda vecchia le dimensioni da un'azienda in questo caso vedete 3 1 220 320 quindi per sapere se ha partecipato alla filiera se è coinvolta una micro impresa un artigiano un'azienda media un'azienda grande l'attività di produzione quindi se è un'azienda agricola se è un'azienda che fa riciclo da un'azienda di trasformazione o da un'azienda meccanica l'attività del processo e cioè in questo processo di realizzazione è prevalente per ciascuna fase diciamo l'utilizzo dei macchinari o l'artigianalità del prodotto intanto c'è la manina o lo strumento meccanico proprio per indicare la percentuale di lavorazione e poi abbiamo incluso dei nuovi elementi abbiamo incluso dei nuovi elementi che praticamente cosa sono l'età media dei dipendenti il genere dei dipendenti quindi in questo caso vedete 53 anni 31 anni 48 qua non si riesce a vedere bene il genere in termini di uomini e donne questo è solamente un esempio ma anche il livello di istruzione quindi se nelle aziende della filiera se i dipendenti erano istruiti o non erano istruiti ma non tanto per discriminare una filiera o un'altra filiera ma giusto per valorizzare una serie di aspetti quindi dove c'è la X perché mancava un livello di istruzione poi l'altro livello è quello dell'educazione di base il livello di educazione superiore laurea era l'ultimo e infine se le aziende della filiera avevano qualche certificazione sociale quindi questo è uno degli aspetti il problema qual è che comunicare queste informazioni così spaccate al consumatore era abbastanza complesso quindi poteva essere il passo successivo o meglio doveva essere il dettaglio di una serie di informazioni c'era la necessità di dare tutte queste informazioni in che modo? in modo raggruppato e quindi abbiamo tirato fuori questo strumento questo strumento che appunto si chiama social footprint dove è stato il primo livello di etichetta e il senso qual era? il senso appunto è quello con questa immagine con questa etichetta di raccontare al prodotto al consumatore che effettivamente il prodotto è stato tracciato cioè che quell'azienda produttrice per quel prodotto ha deciso di aderire a un programma di tracciatura della filiera dove c'è il nome del prodotto e il nome dell'organizzazione e per quella realizzazione del prodotto vediamo che c'è il genere delle persone complessive di tutta la filiera quindi 60% uomini 40% donne che l'età media è il 41% dell'età il livello di istruzione è un'istruzione superiore che l'attività di processo è un'attività al 50% manuale al 50% meccanica che le aziende della filiera svolgono tutta una serie di progetti sociali in totale 10 con il coinvolgimento di dipendenti 7 gli impiegati coinvolti in totale sono 467 di cui 189 uomini 278 donne ma anche attività sociali dove c'è un coinvolgimento dei figli di dipendenti che sono 48 anche in questo caso se i progetti sono stati svolti in collaborazione con partner pubblici privati o no profit la cosa fondamentale poi qual è? è questa in quanto voi da qui vedete che questo prodotto è un prodotto che ha una filiera prettamente italiana quindi è un prodotto diciamo del made in Italy vedete da dove arrivano le varie componenti dove sono state svolte le varie fasi e quindi in modo diretto il consumatore cosa capisce? capisce qual è la provenienza del prodotto e capisce un po' la storia quindi l'idea qual è stata in questa fase sperimentale in questo progetto di utilizzare questo label sociale a valenza sociale affiancato magari ad un label ambientale dove sul fronte venivano messe queste informazioni e sul retro queste altre informazioni ora il progetto è andato avanti il progetto è andato avanti e è andato avanti in che modo è andato avanti facendo ulteriori passi l'idea era quella di migliorare questo strumento ci siamo interfacciati con nuove imprese ci siamo interfacciati con i consumatori e il senso qual era? era quello di capire in che modo era possibile tracciare varie filiere e nel tracciare queste filiere abbiamo trovato la disponibilità di Ecopneus che è la società in Italia che raccoglie recupera e ricicla i pneumatici fuori uso voi non so se sapete adesso lo sapete che ogni volta che andate a comprare un pneumatico pagate un fee legato al riciclo di quel pneumatico quel pneumatico viene raccolto dal gommista viene portato in specifici centri dove viene triturato vengono separate le componenti metalliche e i tessuti dalla parte in gomma la parte in gomma a sua volta viene trasportata ad altri riciclatori che riciclano queste parti in gomma la sminuzzano fino ad arrivare dal polverino del granulo che poi a sua volta viene venduto ai trasformatori che ci fanno le pavimentazioni in gomma ci fanno tutta una serie di prodotti bene parlando con Ecopneus gli abbiamo proposto di fare una sperimentazione per dire facciamo la tracciabilità sociale di tutta la sua filiera ci stai a far vedere chi c'è sotto quanti sono i soggetti che collaborano con te la risposta è stata sì e quella che vedete qua sono diciamo è il risultato in un certo senso degli attori coinvolti in tutta la filiera regione per regione quindi cosa è stato fatto è stato applicato quel modello che avete visto prima a tutte le aziende a tutte le 89 aziende della filiera di Ecopneus compresi trasformatori trasportatori e riciclatori sono stati raccolti tutti questi dati e inizialmente suddivisi come? suddivisi per aree geografiche quindi l'area del nord quindi in totale il numero delle aziende 36 aziende con certificazione sociale nessuna parliamo di per l'area nord quindi 234 dipendenti 88 uomini 12 donne quindi per il nord si vede che è una filiera molto maschile l'età media 39 anni non c'è nessun livello non c'è nessun dipendente che ha un livello di istruzione che non è istruito 53% istruzione di base 40% istruzione superiore 7% laurea l'attività di processo è il 30% manuale 65% meccanica e 5% in questo caso identifica il lavoro di ufficio in più Ecopneus ci ha chiesto che cosa? di introdurre un nuovo indicatore che è il livello di anzianità e quindi qua si vede che praticamente l'anzianità è dettata da una scala che va da 0 a 3 3, 6 6, 11 11, 51 che la maggior parte di queste aziende la maggior parte dei dipendenti sono nella fascia 6, 11 e quindi sono aziende un po' storiche cioè sono dipendenti si vede che è un'azienda che non è giovane è un'azienda che ha come? dopo l'altro salto 11, 51 è molto maggiore comunque rimane la fascia di 39 anni esattamente perfetto qua è anche per dimostrare che cosa raccontiamo se le aziende sono giovani sono anziane brutalmente anche da dire se queste aziende licenziano facilmente o si tengono i dipendenti se si fidalizzano con i dipendenti è un discorso sociale abbastanza importante e quindi diciamo che questo è lo specchio del nord la stessa cosa l'abbiamo fatta al centro quindi stessa cosa 24 aziende una era certificata dal punto di vista sociale anche qui 218 87, 13 età media 38 anni anche qui livello di istruzione 44, 49, 7 qui vediamo che l'attività di processo è 14, 58, 28 cosa vuol dire? scusate ok 30, 65, 5 14, 58, 28 vuol dire che in questo caso c'è molta più gente legata all'ufficio diciamo all'analizzazione di uffici quindi all'analizzazione di computer quindi vuol dire che probabilmente ci sono diverse attività legate al processo produttivo che implicano il coinvolgimento di molte persone per l'attività appunto d'ufficio rispetto alla manualità e al processo meccanico vuol dire che magari potrebbero avere dei nuovi processi meccanici ad esempio qua l'anzianità di servizio un po' si abbassa si vede 3, 6 la prevalente comunque anche lì 6 e 11 anche 11, 51 insomma anche qua abbiamo un buon riscontro infine veniamo all'area sud dove 29 aziende nessuna certificata 237 persone 90% uomini 10% donne età media 37 e bene o male per tutte le aree abbiamo visto che l'età media è quella livello di istruzione 1, 43 50 6% attività di processo anche qui 38, 43 19 rispetto al 5% del nord anche qui si vede che ci sono dei meccanismi per cui c'è un processo che permette comunque un'automazione più avanzata e quindi l'utilizzo di attività di ufficio diciamo significative qua anzianità di servizio vediamo che qua il livello è 0,3 anni sostanzialmente qua conosciamo nello specifico le attività che sono state avviate tutta una serie di nuove attività e quindi questo ha permesso l'assunzione di tutta una serie di persone tant'è che viene confermato da che cosa dalla secondo livello che 6 e 11 è 11,51 quindi aziende che hanno investito nel settore hanno preso nuove persone per rilanciare il settore stesso tutto ciò l'abbiamo fatto anche a livello regionale nel senso scala nazionale scala regionale ora non vi faccio vedere tutte le regioni ma solo un esempio della vostra regione la Puglia dove nello specifico per la Puglia abbiamo 5 aziende 53 dipendenti coinvolti 89% uomini 11% donne età media 35 confermava quanto diceva prima rispetto ai 39-37 scende l'età media livello di istruzione 46-45 9% una percentuale di laurea molto alta rispetto alla media attività rispetto alle altre regioni attività di processo 15-59-26 confermato quanto si diceva prima ok ora tutti questi dati c'era bisogno poi di comunicarli in qualche modo li abbiamo tutti inseriti in un unico label quindi in questa etichetta voi trovate una storia che prevede il coinvolgimento di 89 aziende e di 689 persone suddivise in 483 per la raccolta 206 per la frantumazione voi in questo label sapete vita morte e miracoli della filiera della raccolta e recupero dei pneumatici in Italia ok è una cosa fantastica io lo trovo una cosa fantastica ma non perché l'abbiamo fatto noi il progetto ma per il semplice fatto che in maniera trasparente si racconta per la prima volta una filiera che cosa si racconta si racconta che l'89% sono uomini l'11% sono donne che l'età media è 38 anni c'è un livello di istruzione ripartito che l'attività di processo è 28% manuale 55% meccanica 17% di ufficio che c'è un'anzianità di servizio molto omogenea giustificata da che cosa? giustificata dal fatto che è un settore per cui aziende lo stanno facendo da altri e altre aziende hanno iniziato a investire che un'azienda è certificata dal punto di vista sociale come certificazione S8000 e su questo comunque è già un dato significativo perché la S8000 è generalmente una certificazione che viene fatta da grandi aziende ci sono in totale in termini di progetti sociali 28 progetti con il coinvolgimento dei dipendenti 24 sono coinvolti 839 persone e voi domanderete come mai quello 839 è superiore a 689 per il semplice fatto che molte di queste aziende non fanno solo l'attività di raccolta e recupero e riciclo dei pneumatici alcune di queste aziende oltre a trattare i pneumatici magari trattano anche altri rifiuti quindi nei progetti sociali nei progetti sociali abbiamo incluso anche quei dipendenti della stessa azienda che non necessariamente lavorano solo per i pneumatici 625 uomini 214 donne 484 figli di dipendenti con 23 in collaborazione con 23 enti pubblici 20 privati e 6 no profit quindi questo è un po' il risultato un risultato che evidenzia noi pensiamo in maniera abbastanza trasparenza una filiera ora pensate di applicarle questo modello alle province alle regioni ai comuni ma pensate soprattutto di applicarlo alle aziende vi ricordate la slide che vi ho fatto vedere all'inizio delle 10 multinazionali pensate di raccogliere questi dati all'interno di quelle 10 multinazionali quanto tempo ci vorrà pensate di applicare questo modello ad un sistema artigianale quanto tempo ci vuole con l'artigianalità col prodotto artigiano quindi con la piccola impresa la micro impresa è molto semplice raccogliere queste informazioni e aggiungere altre informazioni quindi uno dei vantaggi del sistema dell'artigianalità è che ci si può muovere molto velocemente e quindi creare strumenti di trasparenza per il mercato e creare valore sul prodotto mettendo in evidenza tutti questi aspetti questa è una filiera legata alla raccolta del pneumatico quindi necessariamente cosa c'è? un'attività di processo che prevale dal punto di vista meccanico è logico nel momento in cui andiamo una filiera artigiana dove prevale in modo evidente la lavorazione manuale quelle percentuali cambieranno cambieranno a favore della lavorabilità manuale la lavorazione manuale e qui si evidenzia non ci siamo fermati visto il successo abbiamo deciso di andare oltre abbiamo deciso di andare oltre e di creare un vero modello un vero modello di certificazione cosa è stato fatto? su questo vi posso dire poco perché ancora in parte riservato in collaborazione con tre organismi di certificazione che sono Certi Quality Buro Veritas e DNV un anno fa ci siamo seduti a un torno a un tavolo gli è stato presentato il progetto e gli ho detto facciamo una certificazione e la risposta è stata più che positiva da un anno abbiamo lavorato a questa certificazione questa certificazione è pronta verrà presentata sul mercato a gennaio è una certificazione innovativa perché è la prima del suo genere è classificata a due livelli livello base A che considera solo alcune informazioni livello AAA che è molto più approfondita in questa certificazione cosa si evidenzia? naturalmente la tracciabilità dei materiali alcune informazioni sociali l'origine dei processi produttivi oltre a tutti gli indicatori che ho fatto vedere prima in termini di numero di dipendenti e tante dipendenti ma anche la tracciabilità dei fornitori prevalenti nel livello approfondito cosa vuol dire? che nel momento in cui un'azienda ha un potere contrattuale cioè c'è un fornitore che fattura più del 50% con la stessa azienda c'è una responsabilità diretta dell'azienda madre rispetto al proprio fornitore quindi coinvolgimento anche di queste aziende tracciabilità di tutti i dipendenti obbligo per tutta la filiera di redigere un modulo di accettazione per il rispetto di tutti i diritti e questo modello è stato presentato lo scorso luglio alla presidenza del consiglio la presidenza del consiglio ha accettato molto positivamente questa nuova certificazione dalla presidenza del consiglio siamo passati al ministero sviluppo economico al ministero dell'agricoltura i quali anche loro hanno accettato e adesso stiamo facendo una serie di sperimentazioni gli organismi di certificazione stanno facendo delle sperimentazioni con delle aziende che al momento non possiamo citare per poi presentare i risultati a gennaio quindi questo è un modello di una nuova certificazione che partendo da un sistema sperimentare alla fine è arrivato a un modello un modello reale che le aziende possono applicare un modello reale che le aziende possono applicare attraverso due approcci quello base semplificato appunto per permettere anche alle piccole micro aziende sistema artigianale di certificarsi a un livello più approfondito per quanto riguarda le grosse aziende e le multinazionali quindi il passo è stato fatto e l'obiettivo appunto è quello di dialogare comunicare con il consumatore raccontare la storia del consumatore nonostante a livello comunitario ci sia questa corossa battaglia sul made in in questo caso non c'è scritto made in Italy ma ognuno di noi può capire in base alla provenienza dei materiali ma anche quelli se sono materiali extra UE o UE viene indicato sotto l'origine di capire e conoscere la storia di questi prodotti e di avere maggiore informazione c'è da dire che con questa certificazione poi quando verrà presentata a gennaio lo vedrete oltre a queste informazioni ogni azienda ha l'obbligo di mettere sul proprio sito internet altre informazioni aggiuntive per permettere al consumatore in qualsiasi momento in fase di acquisto di accedere a tutte queste informazioni e di valutare in che modo l'azienda diciamo va a perseguire delle azioni a carattere sociali sul mercato e di decidere se queste informazioni sono per lui interessanti nella scelta di un prodotto oppure se optare per un altro prodotto bene detto ciò questa è la parte poi dei materiali che verrà domani eventualmente o velocemente questa è stata la presentazione di scenario di mercato mercato quadro legislativo cosa sta succedendo cosa pensa il consumatore cosa pensa l'impresa indicatori ambientali indicatori sociali come questi in via sperimentale sono stati impiegati considerate che ci sono varie società che adesso varie organizzazioni che a livello non solo nazionale ma a livello internazionale stanno lavorando proprio sulla tracciabilità dei materiali sulla tracciabilità e l'origine delle materie prime per danni di garanzia stanno lavorando anche sull'eticità per vari settori tra cui il settore della calzatura ma anche per i tessuti la veridicità di queste informazioni sono tutti strumenti che in qualche modo possono rendere complesso il sistema oppure possono aiutarlo a tirar fuori elementi competitivi io credo che questi strumenti applicati al settore dell'artigianato per valorizzare la storia le tradizioni la territorialità il modo di fare un prodotto siano un grosso vantaggio una grossa possibilità proprio per presentarsi sul mercato con un valore aggiunto in più naturalmente questi valori vanno costruiti vanno costruiti vanno creati ed è necessario farlo con la massima trasparenza coinvolgendo il consumatore quindi io questa prima parte l'avrei conclusa direi che se ci sono delle domande direi di fare queste domande anticipo che l'esercitazione di questo pomeriggio sarà finalizzata a questo e cioè la mia idea era quella di vediamo anche in quanti siete di prendere tutta una serie di prodotti abbiamo scelto quattro prodotti artigianali del territorio pugliese dare dei requisiti di base di filiera e l'idea è che a gruppi o singolarmente appunto vediamo in quanti siete dovete voi elaborare una proposta di label sociale e ambientale scegliendo voi quelli che sono gli indicatori più significativi scegliendo voi quelli che sono gli aspetti più interessanti per poi fare una presentazione comune e fare una discussione e quindi capire su cosa sono ricadute le vostre scelte su dove sono ricadute le vostre scelte è logico che a fronte di quello che avete visto siete un po' più facilitati non è detto che uno strumento di questo tipo a livello regionale debba contenere tutte queste informazioni ne può contenere altre come diverse come alcune di queste possono essere eliminate ma la finalità dell'esitazione è proprio quella di dire tiriamo fuori la territorialità nell'ambito artigianale quindi quali aspetti dell'artigianalità possono essere messi in evidenza rispetto a un prodotto industriale e in che modo questo può essere presentato quindi questa sarà il workshop di questo pomeriggio detto ciò ci sono domande un po' di considerazioni dibattiti molto volentieri in modo tale che arriviamo a luna in un certo senso questo progetto dell'abbing è in questo modo accessibile io mi sono perso la prima parte diciamo allora questo è abbastanza riservato fino a gennaio quello che vi ho raccontato è pubblico sul sito del social footprint perché è diventata una vera e propria certificazione siccome c'è in corso una fase di sperimentazione gli organismi di certificazione devono dare una certa garanzia di riservatezza quindi dal gennaio verrà reso tutto pubblico ecco però diciamo tutte le informazioni le ho ecco quindi se un'azienda volesse cominciare a fare certificare questa procedura dovrebbe parlare con gli organismi di certificazione sì purtroppo su questo devo stare molto molto zitto questa è la questione ci sono delle domande tutto molto chiaro sì per quanto riguarda l'adesione da parte dell'azienda cioè sono loro che spontaneamente avveniscono a un sistema di tracciabilità che poi in qualche modo vuol dire anche un po' maggiori controlli la possibilità di avere più controlli su tutto il procedimento processo sì sì ti riferisci a questo? in generale sì sì ci sono casi e casi quindi vanno un attimo gestizia secondo di un caso o di un altro e di interesse dell'azienda bene facciamo una cosa se non ci sono domande tagliamo lo streaming chiudiamo qui ok ok Grazie.